È stata una partita sicuramente difficile perché loro erano una squadra che si chiudevano molto mentre avevamo la palla noi ed erano abilissimi nelle ripartenze. Infatti i due gol sono nati da due loro ripartenze, sono stati abili nel punirci. Noi abbiamo sofferto questa loro chiusura e non siamo riusciti a trovare la giocata vincente per provare a segnare anche se in un paio di occasioni con la punizione di stoppa e con il colpo di testa di Simonti alla fine siamo stati sfortunati. Il bilancio è un po' amaro. Non è stato facile entrare il punto in bianco anche perché la partita era difficile. Io sto iniziando adesso ad approcciarmi a questa categoria. Non è stato per niente facile, ho dato il massimo però devo fare sicuramente di più. Perché siamo stati poco cattivi rispetto alla domenica precedente in cui lottavamo su ogni pallone ed è forse anche per questo motivo che non siamo riusciti a portare a casa punti. Ci ha rimproverato un po' questo però dandoci coraggio per la prossima partita dato che si gioca la domenica. Spero di crescere tanto come uomo e soprattutto come giocatore perché è la prima esperienza nel calcio dei grandi quindi sicuramente mi darà qualcosa. Alla fine una partita vale come un'altra. Ogni partita vale tre punti. Quindi non importa che la domenica precedente abbia vinto proprio in classifica. Perché come abbiamo visto oggi ogni squadra può mettersi in difficoltà a qualsiasi squadra. Dobbiamo pensare partita per partita come fossero tutte uguali e avere lo stesso approccio.